Salve a tutte ragazze, oggi è un allenamento per voi. Allora, facciamo 8 esercizi, ogni esercizio lo dovete eseguire per 20 secondi, poi dopo riposate 10 secondi e proseguite con l'altro. Quindi ogni esercizio deve durare 20 secondi con 10 secondi di pausa. Quando avete finito il primo circuito riposate 2 minuti e lo ripetete per un'altra volta. Ok? Partiamo! Primo esercizio. Primo esercizio. Primo esercizio. Primo esercizio. Grazie a tutti.